Enrico Mollo, io traggo rispirazione nel mio lavoro andando a pescare situazioni, contesti diversi da quelli per cui sto lavorando. Cerco di andare a lavorare su percorsi che sono estranei al contesto per il quale lavoro. Questo perché secondo me la contaminazione di diversi ambienti, diversi settori, di diverse tipologie di mercato può portare a creare quella dell'innovazione. Consapevolezza e essere consapevole del proprio percorso che per quanto mi riguarda è stato maturato in aziende di respiro internazionale e leader di settore. Quindi cerco di portare dentro ai lavori che seguo, piccoli o grandi che essi siano, un po' di questo percorso che mi sono costruito. L'alleanza, nel caso delle agenzie di comunicazione in particolare, va cercata anche fuori dai confini dell'Italia. Vanno sviluppati dei network, vanno sviluppati delle alleanze, dei momenti di incontro con realtà che provengono da paesi diversi. Perché in questo modo secondo me si evita un po' il circolo vizioso del parlare sempre con le solite persone e scambiarsi le solite idee. Quindi andare a pescare in paesi con culture, con approcci diversi dal nostro, può essere un grande asset. Grazie a tutti.